Musica Prosegue fino a domenica 13 la 37esima edizione di Tutto Mele a Cavour. Venerdì 11 alle 20 Festival Latino nel Teatro Tende alle 21 nell'area Spettacoli in Piazza 4 Novembre, concerto del Coro del Liceo Valdese. Sabato alle 9.30 a Convegno dove va l'agricoltura, l'evolution dell'agricoltura locale, a cura della Scuola Malva Arnaldi, presso il Salone Comunale. Alle 10 nella Pagoda del Gusto scopriamo il Visual Food, questo sconosciuto, e a seguire oggi Cucino e io, incontro dedicato ai bambini. Tutto Mele è anche sport con la prova Duathlon con partenza alle 14 da Piazza San Lorenzo e per tutto il pomeriggio di sabato, intrattenimento nelle vie del centro, a cura dei Cantastorie, gli Allegri Sognatori. Alla sera alle 21 spazi ai giovani con Cavour Night, ospite Radio 105. Tutto Mele prosegue anche domenica, dalle 9 Mercato Agricolo per le vie del centro, alle 10, alle 15 e alle 17 Corsi di potatura e innesti. Inoltre, sabato e domenica si potranno degustare le tradizionali frittelle di mele in Piazza 4 Novembre e nel Piazzale di Tutto Mele, mentre alle 11.30 aprirà il punto Ristoro Tutto Mele Self, gestito dalla Procavur. Nei ristoranti del paese, invece, sarà proposto un menù tutto base di mele del territorio. Gli orari di Tutto Mele sono venerdì dalle 15 alle 23 e sabato e domenica dalle 13 alle 23.